Andiamo dall'architetto Massimo Iosaghini, do solo due numeri, 58esima edizione del salone del mobile, del fuorisalone come si dice, c'è 1.200 eventi a Milano dal 9 al 14 di aprile, 400.000 visitatori previsti e poi l'ultimo dato, sono poche cifre, non vogliamo ubriacarvi, in Italia questo settore conta 30.000 aziende e un fatturato di 27 miliardi e mezzo di euro, tanto per capirci di cosa stiamo parlando. E' questo no Iosaghini? Queste sono le cifre, no? Assolutamente, ricordiamo che anche in questi 27 miliardi c'è un utile importantissimo, per cui portiamo a casa, soprattutto dall'estero, tante risorse. Quest'anno è l'anno di celebrazione di Leonardo, questa figura storica che conosciamo tutti, che è un po' il prodromo, il prototipo dell'architetto, del designer italiano. Noi abbiamo ancora questa dualità, siamo duplici, siamo architetti e al tempo stesso disegnatori. Adesso, quest'anno, qui al Salone c'è molto ragionamento su quello che è l'economia circolare, quindi non solamente, diciamo, una bellezza lussuosa, un prodotto di qualità, diciamo, estetica, ma anche sostanziale, perché certamente dobbiamo fare i conti anche su come si sta evolvendo il nostro ambiente, il pianeta e quindi l'economia circolare, che poi è citata, come si diceva prima, anche da Confindustria, come una delle possibilità per evolvere il nostro prodotto, perché noi italiani siamo, fatemi dire, esperti in qualità. Può sembrare strano, perché quando si parla di come siamo organizzati, di com'è la nostra organizzazione sociale, a volte un po' confusionaria, può sembrare strano, ma è così, perché invece noi siamo esperti in qualità, siamo mentalizzati nella qualità, ed è per questo che riusciamo ad avere un mercato internazionale così importante, così ricco, non solamente nel mobile. Sì, volevo chiedere una cosa, diciamo, la parola d'ordine, mettiamola così di quest'anno è sostenibilità, ma nel, diciamo, tra i produttori, gli espositori, le tante persone che vengono a tutto il mondo, insomma, a visitare questo che è un evento internazionale importantissimo. Che aria si respira nei confronti dell'Italia? Ma c'è sempre un po' questo stacco, diciamo, per cui c'è questa idea che, diciamo, noi siamo in grado di fare un prodotto che ha una sua visibilità, una sua esportabilità, che c'è questa qualità che vi dicevo prima, e dall'altra parte l'idea che il paese è come se avesse una bellissima moglie che però trascura in modo sostanziale. Ecco, quindi un po' della serie ci tocca fare da soli. Ecco, questo è un po' il ragionamento di fondo. E' una riflessione che giro...